Tocca ora agli atleti della seconda batteria G4 schierarsi sulla linea di partenza, pronti per affrontare la loro gara. C'è tempo di pensare, muoviamoci che poi diventa sera, siamo come il sole a mezzogiorno, bene, senza più nessuna ombra. Springhedi, Otelli, Nuvolera, Mazzano, Camignone, Nuvolento, Valletta Monica, Capriolo, Ronco, Rodengo, Pedale Orceano, Pornato, Travagliato, Storo e Soprazzocco, le squadre che compongono il gruppo. Andatura ancora tranquilla per questi atleti che probabilmente cercano di preservare le energie per lo sprint finale. Ultimo giro e a contendersi la vittoria troviamo un gruppetto ancora nutrito di atleti. All'ultima curva parte la volata finale dove ha la meglio Gazzoli Michele della Otelli, suo posto di Lorenzo della Nuvolera. Terzo posto per Garioni Hermes del Pedale Orceano che precede Monbelli, Andrea dell'Aronco e Cavalli Giorgio della Capriolo. Mezzogiorno senza più nessuna ombra intorno, siamo come il sole a mezzogiorno baby.